la canna vita per chi se l'è perso sta qua e ora facciamo un applauso a parare la pole band forza il campione del mondo alla destra francesco tassoni lorenzo e tastiere campionese italiana di balli latini da teramo allieva del maestro simone maia lori sarà il nostro usignolo serena ma andiamo più lontano da campo valano dunque viene verso i ascoli a termo fabio alla batteria con tutti i suoi fanni in giro per il mondo torniamo da campo valano torniamo a terra andiamo verso montorio a frontarola massimo la chitarra e poi scendendo veramente a montorio andrea le percussioni e ora vi facciamo il paparone lo facciamo subito il paparone tutti i bambini dietro voglio fare il paparone e allora venite tutti quanti qui bambini cianmarco luigi tutti quanti tutti quanti tutti quanti venite che vi faccio il paparone e sarà me lo palla poi non li facciamo pure come ballo di gruppo a ballare tutti quanti il paparone grazie mi senti vai un abbroso forte a luca cincone E' un'altra cosa Sì Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.